A nome della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economiche e Sociali che ho l'onore di presiedere porgo un cordiale saluto agli organizzatori, agli illustri relatori e a tutti gli interventi. L'inaugurazione dell'anno giudiziario è sempre stata un'occasione propizia, favorevole, per riflettere sullo stato della giustizia tributaria. Nell'attuale momento storico, ancora caratterizzato, bisogna ammetterlo, da gravi difficoltà economiche, il ruolo delle commissioni tributarie assume una funzione sempre più rilevante e centrale. L'applicazione sul mezzo è un generoso ed essenziale per tutto alla nostra attività. Secondo loro si è creata un'occasione. L'evoluzione più recente dei rapporti istituzionali conferma l'esigenza da due parti segnalata in una diversa e più razionale proporzione nel rischio di rapporti tra questo e questo momento in materia dell'evoluzione del servizio e dell'evoluzione del servizio, ma che in tutto lo stato dell'evoluzione, il tempo di ultime necessario, per i tempi di cui, diciamo, Grazie a tutti.